E' un buon punto quello che ottiene con molta sofferenza il Pineto in casa del Rimini. I romagnoli passano in vantaggio ma poi sciupano diverse palle gol e la squadra di Amaolo pareggia e ringrazia. Pronti via il Rimini passa in avanti, angolo per i biancorossi, la mesta crossa, il pallone viene allungato sul secondo palo dove Meggelaitis calcia forte nel cuore dell'area e trova Lepri, letale per Tonti. Il Pineto al quattordicesimo protesta per un rigore non fischiato, contatto tra Gigli ed Ingrosso in area romagnola, l'arbitro non fischia, terà mani su tutte le furie ma si prosegue. I biancazzurri cominciano a carburare con un tiro di Volpicelli che finisce a lato ma devono fare attenzione alla mesta, il cui tasso tecnico è sempre elevato e a Delcarro che giganteggia a centrocampo. Proprio da una combinazione tra i due al ventisettesimo nasce un'occasione per raddoppiare punizione di la mesta, testa di Delcarro, Tonti vola a salvare la sua porta. Al trentottesimo il Rimini segna ancora ma il gol viene annullato a Gigli per fuorigioco. Ripresa subito scoppiettante, Tonti chiude un tiro insidioso di Semeraro al sesto e subito dopo Cernigoi di testa fallisce il tocco da posizione favorevole. Ancora Tonti pronto al nono sul colpo di testa del solito Delcarro che a porta spalancata manda incredibilmente fuori. Sull'altro fronte Colombi si supera su Manu mentre Chakir fallisce il tap-in del pareggio al dodicesimo. La partita è ancora aperta e il Pineto lo dimostra pareggiando con la sua punta di diamante Volpicelli che su punizione al trentatreesimo scaglia il dardo avvelenato che passa nella barriera, viene sporcato e finisce in porta. Undicesimo gol del Bomber al rientro dopo la squalifica. Il Rimini ci prova fino alla fine ma il Pineto resiste e porta a casa il punto prezioso e sabato prossimo c'è il derby in casa del Pescara.